La città di un'altra parte di funzione Pugniamo. Lei sta pensando sempre, perché sai che la parte funzione è una parte funzione. Cosa fa? Quando ha patto sempre, per esempio, il suo campo di prestazione centrale, fisologicamente il mio reggio, perché non è l'uomo, faccio le stesse funzione, l'applicazione esclude e le reputisce. Quindi, come potete vedere, sono piccole, ma piccole tecniche. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Come avete notato, questo è un classico, è un tipo di schiacolo, che, come, giustamente, lui, l'ha controllata, qui, qua, la porta sempre e la volete un piede. E lo trovo, semplicemente. E andate in conto. Quando questa va scaricata sull'energia, non è restante. Perché, a fondo, se la doppia qui, ha un effetto. E' un punto che non si riesce. Scarica un po' l'energia. Batti. E' un paradosso. Il problema, c'è, non via lontano. Non scavano. Finché potete evitare l'operità? Se potevo scappare, scappavo. Nel momento giusto per partire, qualcuno deve partire. C'è un punto giusto. Quando uno parte, ma verso il problema. Quindi, scarica l'energia e l'energia. E le dice, come avete visto, semplicemente, Cosa fa? E' una cosa fisica. Io ricarico. Vedete? Lei prende. Può fare questo. Può fare questo. Può fare questo. Cioè, l'articolazione è questa. In un modo e in un altro è smash. Non facciamo calci volanti, come spettacolare, oltre in tavola che non ci interessa. Ci interessa... Faccio volanti per un'energia in tavola. Come dire, vi faccio l'energia in tavola. Come dire, vi faccio l'energia in tavola. E' un'energia in tavola. Praticamente, questo è un tentativo. E' un'energia in comportare via la persona. Per vari motivi. Ovviamente. Guarda la vista del video. Ma ricomponiamo. Mettamente. No. Non ci vuole forza. Non ci vuole. E' un po' più. Pratico. Ma vuoi fare una rotazione. Fa levasore. Un po'. Con un po' una doppia. Può fare una doppia. E poi. E poi. Può fare una doppia. Grazie. Grazie.